Buongiorno ragazzi, Movie Maker per voi con una nuova live trailer action, questa volta un film con Tom Hardy, interpretato da Tom Hardy, protagonista sarà Capone, storia sugli ultimi, capitolo finale sulla storia di Al Capone se non abbiamo capito male, grande interpretazione, tutti dicono a quelli che hanno visto il trailer, dovrà confrontarsi con Robert De Niro come interpretazione, siete pronti ragazzi? 3, 2, 1, via! Ah, in lingua originale ragazzi! Do you know what the difference is between Adolf Hitler and Al Capone? It was dead. Capone was like a king in Florida. I don't know, he has full-blown dimension. I have reason to believe I could all be in a labrador. What's this about? We have information that your client may have tucked away a very large sum of money. I don't know if you're very inti- and I can drop the head now. Yeah, cool. Walking around. The guys on this place, ten million dollars. Let's get them. We've been given a ton. Because we've been going rampage. mi sa che sarà molto psicologico va bene ragazzi è un trailer veramente ben fatto ti fa venire la curiosità giusta di quello che vuoi vedere mi sembra che sarà molto introspettivo perché tante scene che sono viste non so se sono scene di vita reale tipo quale cocodrilo che lo sta per mordere mi sa che sarà molto basato sulla psicologia soprattutto dal personaggio Tom Hardy mi sembra perfetto in quel volo lì veramente di spessore in tutto quello che fa quel ragazzo esce nel 2020 non so esattamente quando non so se succederà al cinema con tutto sto coronavirus sono tutte un po' così però mi sembra un prodotto molto valido sono delle case produttrici non principali c'è la Bron la più importante che ho letto ma comunque il cast della Madonna Matt Dillon poi c'è anche l'attore di Twin Peaks nel senso mi sembra che possa essere un buon prodotto un buon film di che è un buon biopic non so se sarà un biopic o no comunque è una buona storia basata su 20 reali che ci racconterà qualche capitolo mai raccontato della storia di Capone difficile cose mai viste però niente se vi è piaciuto questa live television lasciate un like iscrivetevi al canale per non perdere nessun nuovo video attivate la campanella proprio per non perdere le notifiche dei nuovi video se vi fa piacere seguitemi su Instagram dove non parlo non solo di cinema ma anche di altro ma soprattutto di cinema io vi ringrazio che mi avete ascoltato alla prossima live television ciao buona giornata ciao ciao